Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100k. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Allora, dopo una quindicina di chilometri mi sono fermato in un posto, a Plataria. In un posto molto carino. È tutto quello che uno si aspetta dalla Grecia, no? I ristorantini vicino al mare, le barche a vela, i tavoli azzurri. E allora ho preso un caffè e mi sono fermato a chiacchierare con un po' di ristoratori che lamentano il fatto che effettivamente quest'anno turisti dall'Italia non ne sono proprio arrivati. Perché giustamente uno dice, eh, le medicine, la benzina, la crisi, a me non sembra. Luisa, allora, come... ma le medicine ce le avete? Le banche sono aperte? No problemi, con banche, con alles ok, no problemi con Grecia. Però niente turisti dall'Italia. Ma dalla Germania sì, german turisti. Germania sì, no problemi, vuoi l'italiano? Non vieni. Non vieni. Boh? No. E tra l'altro mi ha offerto pure il caffè, Luisa. Però vedo tutte queste barche a vela, molte con la bandiera tedesca. Vabbè, dal Dream Cafè è tutto, da me e da Luisa stasera penso di fare una diretta Periscope intorno alle 7. Se avete Periscope, loggatevi e seguite la diretta. Ok, il viaggio continua. Ciao!